A Pianura, il 12 dicembre del 94, Palma Scamardella fu ammazzata in un agguato per puro errore di persona. Come accadde qualche anno dopo, sempre a Pianura, a Paolo Castaldi e Gigi Sequino, assassinati sotto casa per un atroce equivoco. Noi non siamo venuti per visitare la fine, noi siamo venuti per dare un fine invece alle nostre esistenze. La fine non ci interessa, la fine è un passaggio obbligato per tutti. Chi vede noi stasera deve sentire questo paradosso, quello di dire, ma come mi vengono morti e tu dici che è vivo, sì, perché noi non possiamo dire altro che sono vivi veramente. Io porto il saluto del sindaco dei Magisti, che non poteva essere qui stasera con voi, lo faccio in quanto assessore alla cultura ed è bello che le comunità civiche si riuniscano insieme intorno a dei momenti fondamentali. Un'aiuola con fiori e ulivi che fronteggia l'ingresso del cimitero di Pianura è stata intitolata a Palma, Gigi e Paolo in un'intensa cerimonia che ha raccolto la comunità del quartiere. Un luogo fisico e visibile per coltivare nel tempo la memoria delle vittime innocenti della criminalità e per affermare simbolicamente la presenza delle forze civiche legalitarie sul territorio. Grazie. 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 Grazie.